Un buongiorno a tutti, ben ritrovati, settimo episodio del corso di CSS e quest'oggi andiamo a parlare dell'overflow. Allora, prendiamo la scaletta. Che cos'è l'overflow? Le proprietà overflow, anzi la proprietà overflow, scusatemi. Come gestire overflow Y e X nei modi migliori e poi testare gli overflow. Allora, come potete vedere, io qua ho due esempi. Cominciamo con questo, è un bellissimo paragrafo con dentro un lorem ipsum abbastanza lungo e il nostro paragrafo ha un bordo per farvi vedere dove arriva. Dopodiché gli ho messo una larghezza e altezza indicativa di 200 pixel, è stata messa appositamente bassa per avere questo risultato. Questo è l'overflow, ve lo faccio vedere meglio, scusatemi ho sbagliato qua. Andiamo qui, ok. Allora, questo è l'overflow. L'overflow è la fuoriuscita di contenuto da un elemento, ok? Quindi se ne andiamo a vedere, tecnicamente questo è P e questo è il contenuto di P. Ma come potete vedere, avendo P della larghezza e dell'altezza ben definita, così invece è automatica, essendo ben definite, come potete vedere, il contenuto fa quello che vuole e fuoriesce. In questo caso arriva la proprietà overflow. La proprietà overflow, anzi faccio vedere anche questa casistica, ho messo solo una parola, quindi faccio vedere. Ecco qua, sternocledomastideo, che dovrebbe essere, non mi ricordo se è un osso o un muscolo particolare, comunque è una parola che mi è rimasta impressa. sternocledomastideo, vedete, è una parola che esce dal nostro P, è un altro P e l'ho fatto di with 50, quindi come potete vedere abbiamo una fuoriuscita. Come la gestiamo questa fuoriuscita? Con appunto proprietà overflow. Allora, noi andiamo qua e semplicemente facciamo overflow, abbiamo overflow, overflow normale, x, x e y, quindi overflow controlla entrambi, se no c'è solo y e solo x, noi andiamo con overflow normale e vi faccio vedere. Abbiamo quattro fondamentali alternative, lasciamo perdere auto, ci interessa hidden, scroll, eventualmente visible. Andiamo con hidden, vi faccio vedere qual è il risultato, vedete che il contenuto viene nascosto dentro l'elemento. Ora, qual è il problema? In questo caso, per quanto riguarda del testo, è che se noi vogliamo ammettere del testo così lungo, eventualmente vogliamo leggerlo, no? Quindi proviamo a cambiare. Auto ci manda in scroll. Allora, a noi interessa il buon scroll. Ecco qua, quindi andando a fare overflow scroll, lo facciamo anche qui, andando a fare overflow scroll, cosa succede? Vedete che ci mette la barra di scorrimento sia su x, qua, anche se non la usiamo, che su y, ok? La cosa che vediamo di solito, lo vediamo anche qua col browser, eccetera, insomma, qualsiasi cosa, lo scroll verticale è la cosa giusta da fare. Lo scroll orizzontale si vede quasi raramente e se dovete scrollare in orizzontale è anche fastidioso. Questo perché con la rotella del mouse io posso scrollare senza dover andare a prendere per forza. Con la rotella, come si chiama, con la rotella invece, sempre del mouse, è un po' difficile usare quella orizzontale. Non so nemmeno se si possa fare, adesso non ce l'ho presente, ma credo di no. Quindi, quello che vogliamo fare è avere lo scroll verticale e non quello orizzontale. Per andare a gestire questa cosa andiamo a parlare appunto come gestire y e x. Allora, come la gestiamo quella parte lì? Molto semplice, andiamo a fare overflow y e andiamo a fare scroll. Mentre invece per quanto riguarda overflow x ci sono delle proprietà che ci possono interessare. Word break e overflow wrap. Io previsco usare word break, quindi facciamo word break, andiamo a fare break all e vi faccio vedere. Possiamo usare break all o keep all. Ok, allora, cos'è successo? Cos'è successo? Che le parole, innanzitutto qua sotto è sparita la, vedete che è sparita la scroll bar orizzontale, tra l'altro disabilitata, che era anche bruttina. Ma soprattutto word break è quello che ci ponete di andare a capo, quello che facevate col quaderno a scuola, mettavate l'uguale o la righetta andavate a capo. In questo caso vedete che la frase, la parola è said, ok? La s è rimasta qua e il resto va a capo. Cosa possiamo fare altrimenti? Possiamo mettere break word, vedete qui, oppure keep all. Sono di base gli stessi, quasi lo stesso comportamento. Quindi cosa succede? Che piuttosto crea dello spazio in più dopo la riga, ma ci permette di andare a capo direttamente senza tagliare la parola. Quindi potete scegliere cosa fare. Io preferisco non tagliare mai la parola e avere il tutto che vada a capo, piuttosto ho dello spazio in più. Quindi questo è quanto, vi faccio vedere semplicemente word break su questo secondo esempio, così si capisce un po' più facilmente. Andiamo qui, ok, vedete? Ha preso P, perché questo giustamente è una P, quindi prende anche word break. Andiamo a vedere e succede esattamente questo. Ecco qua. Quindi, ultime parole per questo video abbastanza corto, mi raccomando di testare overflow. Qualsiasi cosa fate, ovviamente non in questo caso, ma quando andrete a fare un layout, testate. Testate sempre il vostro codice, anche se avete un paragrafo con qualche riga, aggiungete più righe, vedete come si comporta. Vedete come si comporta, si è aumentato un po' il font, vedete come si comportano i vari paragrafi. Insomma, cercate di capire bene i vostri elementi, come funzionano innanzitutto sia mobile, tablet, desktop. Cercate di vedere perché quello che volete evitare sono problemi a livello di user experience. Anche perché può succedere che una persona magari non veda certi testi, non veda dei bottoni, quindi magari pensate uno ha compilato un form e poi non può inviarlo perché l'overflow nasconde il bottone, piuttosto che non riesce a leggere certe cose, non riesce a cliccare determinati link, ed è un problema. Quindi l'overflow è una cosa che volete evitare e che volete assolutamente gestire. Ora, il vero problema dell'overflow succede quando voi cominciate a mettere delle altezze e delle, qua vedete, delle altezze e delle larghezze fisse. Questo è il vero problema dell'overflow perché generalmente usando flex o lasciando tutto automatico, CSS moderno tende ad autoregolarsi e far stare il contenuto, renderlo sempre visibile. Quando voi cominciate a mettere delle limitazioni, CSS dà per scontato che voi sappiate cosa state facendo e di conseguenza non si occupa, non vi dà alcun tipo di aiuto, quindi è vostro compito gestire anche tutta la parte dell'overflow. Dunque, vi ringrazio per essere rimasti con me, questo era un breve video sull'overflow, ma era importante farlo, andiamo avanti. Noi ci vediamo nel prossimo episodio che sarà domani dove parleremo dei valori CSS, dobbiamo parlare di tante cose, colori, immagini, posizionamento, unità di misura, insomma c'è tante cose di cui parlare. Quindi, no, vi rimando a domani, vi ricordo che ci sono gli abbonamenti attivi se volete sostenere il canale e alla prossima, ciao ciao! 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 Ciao!